vale bellezza vale bellezza attenzione in versione casalinga con l'occhialino da vista senza occhialini al sole stasera morgi partecipa anche te a questa veloce diretta dell'edicolo albana show che succede siamo stati chiamati da una persona che fortunatamente per lui non c'è ci siamo io e ci sono io punto che quindi non darò un freno a questo signore che è incazzato come una bestia quindi eccoci stavamo dicendo stavamo dicendo è incazzato come una bestia questo uomo e ha detto voglio l'edicolo albana show quindi domani a mezzogiorno ci sarà questa persona alla creperia di porto azzurro alla creperia di porto azzurro quindi se passate da quelle parti venite se non potete passare da quelle parti collegatevi in diretta su facebook che questo è veramente fotonico c'è un giramento di coglioni per chiamarmi ciao salvatore buonasera vedete anche in questa versione abbastanza così composta perché eravamo eravamo in campagna tutto il giorno a lavorare diglio diglio eravamo in campagna tutto il giorno eh quindi se non è tanta gente a quest'ora è pieno di gente fa caldo c'è qui si more di caldo non è che fa caldo qui c'è 280 gradi infatti vede anche lei è anche lei è versione portuale canottiera canottiera portuale io con l'occhialino a vista non sto con l'occhialino a vista no addirittura perché non vuole mi faccio la barba lei mi rompe mi rompe i coglioni quindi vi aspettiamo domani mattina grande alessandro buonasera ciao daniela domani mattina a mezzogiorno se passate davanti alla creperia di pinotti ci troverete lì bella lei lei fenomenale mi trovate lì con questa persona altrimenti non c'è problemi ve lo guardate in diretta è stati bene stati a corte un abbraccio a moragno che ci dicono edoardo vedi anche te in diretta dai siete troppo canzi ci dicono lui è in ferma perché è freddoloso non so come cavolo fa aspetta fammo fare anche il video appello ad oardo la topa di tu madre si è presente allora edoardo fermo fermo buonasera fantastico carmina c'è buonasera sto bene con l'occhiata addirittura passo passo grande mi passa tutto il mondo saluto anche a quello se volete voi mandati anche 80 mila dante dov'è dove è dante vieni che ti vogliono vedere dante vedo che siete in parecchi stasera a guardarci mi fa piacere questa cosa perché non siamo mai quasi cagati da nessuno dante vieni che volete ripetiamo domani mattina a mezzogiorno in crepita da pinocchi e che trio che quaterna c'è anche lui c'è è un pisi anche lui è tipo un topino nero ma che dici ah lo sai che la gente lo sai che la gente ha fantastici portali a fare serata con te questi vengono a fare serata con me visto ma ammazzano la sera a me lo sai che la gente ha apprezzato mi ricordo molto che te facevi la poesia delle suole tre anni fa quattro anni fa te la ricordi? dai dilla no ma no così tanto così bello no eh guarda un po' a lui alzermi perfetto ragazzi vi aspettiamo domani sera domani sera mi fate l'incoglioni domani a mezzogiorno alla crepita da pinocchi perché c'è lui che è incazzato come una bestia domani c'è da rive bimbi eh infatti al deco siamo domani sera ci siamo domani sera al deco Edoardo non vedi fruncate grande bad sì parecchio era meglio se ero bad Edoardo ferma un po' ciao alzermi domani sera al deco il mezzo litro di vino e ma domani mattina a mezzogiorno il delivio Buonanotte salutate la gente Ah mi salutiamo anche a tutto il mondo famoso si è ubriacato e tu sei scemo ma sei scemo Dante in frattempo ci sta ammazzagrando arrivederci ragazzi a domani a mezzogiorno in creperia che Dio ce la mandi buona e senza le mutande grazie